Parata di Pavani su una che via Losseini, riparte il Sassari in seconda fase, Manojlovic dal centro che scarica la palla e gol subito del Sassari in difficoltà l'attacco del Raymond, buona difesa del Rubiera, ottima difesa, Manojlovic fa partire un sottomano dai 9 metri, bellissimo Il Sassari passa più 4 Casa per Roberto Bartoli, Roberto Bartoli trova il primo gol del Rubiera Rubiera fusina che si lamenta, voleva un due minuti sul fallo ai danni di casa Attenzione, taglio di Bartoli, della Santa attacca verso il centro, cerca lo spazio, trova un gran gol della Santa Dove Pavani non può arrivare, intanto riparteremo il Sassari, Manojlovic cerca Aldini, passaggio pretenzioso per Aldini in mezza 3 Volivac che lancia per Bartoli, da solo davanti a Pavani, gran gol di Roberto Molto difficile Mentre notiamo Oleari che va in difesa su Manojlovic, riesce a copiare il palla in contropiede e inizia a segnare 5 pari Con Aldini, almeno per ora, Gomez che scambia con Malandrin, ancora per Branach, parata di Volivac, Alilcovic, non riesce la doppia parata Seconda fase da Raymond Sassari, Malandrin dal centro, scarica per Branach, Gomez dentro, Gomez, grandissima parata di Volivac sul tiro Vero si trova sempre con la porta vuota Della Santa con un sottomano micidiale Sassari, entra Manojlovic, ha terzino a sinistro, ancora Gomez, cerca Nardini nuovamente Gol di Nardin questa volta Costante schema di gioco Casa ancora sul centro Palla per il pivot Gran gol di Matias E otto Alilcovic Passa a balla a Malandrin dal centro Manojlovic A gran voce viene chiamato il passivo Manojlovic trova un gol Ovviamente l'arbitro dovrà fargli cambiare la maglietta e offre qualche azione Il tiro del schiaccione Malandrina ancora, Gomez attacca su Oleari sempre Attenzione, volo per Manojlovic Parata di Volivac, non va alla volante Per Manojlo Alvaro per casa Ceca lo spazio con il pivot Matipri, una palla Va al tiro Ed è gone Gran gol di Cristian Manojlovic Che è toccato L'arbitro di un'altra opinione Quindi Della Santa Verso il centro Supera Alilcovic Fallo in ritardo di Alilcovic Orchestrare Attenzione, taglio a doppio di Nardin Ancora, scarico in mezzo Ingenuo alla difesa del Rubiera Santa che si porta verso il centro Dialoga col compagno di squadra pivot Ma non c'è nessun passaggio Anche Verosini Doppio incrocio Ancora Casa Casa trova un grandissimo gol Pavani c'era quasi arrivato Intanto, attenzione, Manojlovic in foratura Grandissimo gol di Manojlovic La rimessa veloce al Sassari Coglie di sorpresa La difesa rubierese Che Prende un gol Nulla da fare Nulla di fatto Viene annullato Allo splendido gol di prima Attenzione Contro Mantore in campo Adesso Berzic Per la formazione Sarda Che si porta nella posizione di terzino sinistro Attenzione però Attenzione Ancora adesso Manojlovic Ottimo anticipo di Ceccarini Che si porta sull'esterno Contro Pavani Bellissimo gol di Ceccarini Con Voliubac Attenzione Palla recuperata Di Peda Sarda Attacco Branach Che trova un gol Semplice Attacco del rubiere Si porta sul centro Della Santa Contro Aldini Arriva lo scarico Pena Gavellosini Che trova un buco Impossibile E va a carico Berzic Allarga ancora Per Manojlovic Che cerca un sottomano Parato da Voliubac C'è una grande indecisione La palla mia è scaricata Licovic 9 metri Ne è trattenuto da casa Bel gol Di Della Da Gavellosini Palla Oleari Che allarga per Della Santa Supera in ruolo Contro Tiro di Della Santa Missile Nello scattolino di Della Santa Attenzione Si butta in foratura Manojlovic Contro Girella Di Christian Manojlovic Gol bellissimo Anche questo Sulla falsariga Di quello fatto da Mattias Nella prima frazione di gioco Oleari In anticipo Con la palla E gol Palla al Sassari Ancora Malandrin Anche questa Mi sembrava un'infrazione di passi Manojlovic Fa partire Un missile Nello scattolino Che viene però Luca Oleari Adesso Manojlovic Porta sul centro Fallo Alilkovic Tutto solo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti